L'ampio schermo verticale R-Link 2 da 8,7 pollici raggruppa tutte le impostazioni e le funzioni multimediali del veicolo. La nuova S-Pass offre un'esperienza audio senza precedenti, grazie al sistema Surround Bose. L'amplificatore ad alto rendimento governa i 12 altoparlanti ad alte prestazioni, incluso un subwoofer, garantendo a tutti gli occupanti una qualità acustica simile a quella di un concerto dal vivo. Nell'area porta oggetti della console centrale sono disponibili una presa USB e un lettore scheda SD. Per i passeggeri della seconda fila sono disponibili due prese USB e una presa jack nella sezione inferiore della console centrale. Grazie per la visione!